Cosa è la memoria eidetica? La memoria eidetica, nota anche come memoria fotografica, è la capacità di richiamare con accuratezza vivida le cose che sono state ascoltate, viste o lette. Ciò appare più frequentemente nei bambini che negli adulti e di solito comporta immagini visive come illustrazioni artistiche. Altre persone hanno esibito memoria eidetica per la musica, e sono in grado di suonare un pezzo, a volte anche una lunga composizione, dopo averla ascoltata per un breve periodo. Forse l'esempio moderno più avvincente di questa condizione è Kim Peek, l'uomo su cui si basava il film Reimann. Peek è nato con la sindrome FG, caratterizzata da anomalie fisiche e ritardi dello sviluppo e altre malformazioni cerebrali. Anche se i suoi punteggi del test IQ sono piuttosto bassi, legge libri in meno di un'ora e può recitarli con quasi completa accuratezza, anche anni dopo. La sua biblioteca mentale contiene oltre 12.000 libri su una vasta gamma di argomenti. A differenza della maggior parte delle persone, la cui memoria diventa meno precisa nel tempo, la memoria e le abilità sociali di Peek sembrano essere diventate più sviluppate con l'età. Ci sono rari casi di altri adulti che esibiscono la capacità di ricordare, con dettagli incredibili, scene visive, numeri e testi scritti. A volte questi eventi, come la memorizzazione dell'ordine di un mazzo di carte, sono di breve durata ma sembrano di natura fotografica. Molti psicologi attribuiscono la capacità degli altri di ricordare vaste quantità di materiale per lunghi periodi di tempo non alle abilità fotografiche, ma a capacità di memoria altamente sviluppate. Vi è una grande quantità di controversie sul fatto che esista effettivamente la memoria eidetica, o se alcune persone hanno semplicemente la capacità di organizzare i dati rapidamente o hanno sviluppato tecniche che aiutano nel richiamo mentale. I testi indicano che la vera memoria fotografica appare più spesso nei bambini rispetto agli adulti ed è di breve durata. Molti eidetiches, o persone con memoria eidetica, mostrano questo in una particolare area, come arte, musica, numeri, parole o impostazioni, e non attraverso l'intero spettro della percezione visiva o uditiva. Alcuni ritengono che Mozart abbia posseduto memoria eidetica per la musica. Nato in una famiglia di musicisti, ha iniziato a comporre pezzi brevi e belli da solo all'età di cinque anni. A sei anni aveva già imparato a padroneggiare la tastiera e cominciò a esibirsi pubblicamente. Ben presto divenne un violinista, e all'età di nove anni cominciò a comporre sinfonie. Sebbene non ci sia dubbio che possedesse un'incredibile memoria per la musica, alcuni psichiatri attribuiscono il suo inizio precoce non al ricordo totale, ma all'addestramento e all'ambiente musicale in cui è cresciuto. I test per la memoria eidetica nei bambini comportano la scomposizione di un'illustrazione in due serie di punti apparentemente privi di significato che, una volta sovrapposti, creano un'immagine. Ai bambini vengono mostrati gli insiemi separatamente per alcuni secondi poi viene chiesto di descrivere ciò che hanno visto. Una piccola percentuale di bambini unisce visivamente i punti nell'immagine corretta e la descrive dettagliatamente come se la guardassero. La memoria, tuttavia, generalmente svanisce in pochi minuti. Mentre molte persone non possiedono l'invidiabile dono del ricordo totale, sono stati creati numerosi giochi e tecniche per aiutare a sviluppare la memoria visiva. Molti di questi riguardano i giochi per computer. In alcuni punti appaiono casuali sulle linee e il giocatore tenta di memorizzarli, mentre altri giochi utilizzano immagini tridimensionali. Altri strumenti di miglioramento della memoria utilizzano dispositivi mnemonici o formule verbali rime per migliorare il richiamo.